mi fa volare, mi fa volare ciao bambini, oggi i giocatori non ci sono però ci sono qualche due figli, sì Alex? io prendo, tu prendi quello, tira aspetta, aiutami Alex, aiutami che roba pesante oh, tu hai portato solo un camion con rimorca? io ho portato tre macchinini tre macchinini, vedete? io ho un altro rimorca con pezzi che cos'è? un gru ok, si può caricare, prova? ah, si stacca anche, prova si stacca, ti aiuto io ti aiuto io viena staccarlo, voi lasciare rimorca ecco, si stacca, oh, posso mettere io tu, a chiare? vediamo, si vici come stai, ambele buon giorno oggi oggi iniziamo la costruzione abbiamo noi tutti questi qui giochi e facciamo io voglio fare un grattacello tu conosci cosa significa il grattacello allora io inizio a fare il grattacello tu mi devi portare tu mi devi portare le cose facciamo una macchina per fare queste cose macchina, sì, macchina tu fai io faccio un grattacello grande grande grattacello guarda arriva una bella macchina e io faccio grattacello grattacello e quella casa alta 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 che arriva al cielo giusto? grattacello guarda che grande mi serve un grattacello alex mi serve un gru mi serve un pezzo da mettere qua tu hai la macchina quella lì queste sono le finestre ma che finestre? dopo non ci metterai niente prenditi qua per favore un cubo e mi metti qua no alex, alex ti prego se no io ti indirizzo portami per favore con il suo camion con gru qua e metti un cubo un cubetto sì, scaricami sì, questo non un cubetto questo triangolo cubetto questo qui sì, arancioni quello lì non si lavora qui in Italia come intendi ecco bravo bravo grattacello quasi finito un altro arancioni arancioni un altro ecco lo diciamo sì, carica 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 io faccio mi metti qua mi metti qua piano bravo 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 un altro rotondo rotondo verde oh quanti pezzi qui abbiamo attenzione attenzione che cadono serve un aiuto da quello ah di queste ah sì brum 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 sì abbiamo dimenticato di macchine questa è la polizia ah la polizia non serve la polizia no, polizia no, 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 no anche questa macchina sportiva queste non servono macchina sportiva ma queste corre ma sei pazzo ma sei pazzo ma sei pazzo ma sei pazzo adesso vai tutto a prendere sì vado adesso dobbiamo rimontare avete visto tolgo tutto perché adesso sarà una costruzione grande Alex cosa stai facendo? io già faccio ecco con questo si può fare tipo tettoni no? ma quindi come facciamo? andiamo ancora in su sì andiamo in su bravo arriva arriva aiuto 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 buongiorno come va? tutto bene? tutto bene? ok io mi ne vado oh mio dio adesso rompe il treno perché? perché perché dobbiamo rompere non dobbiamo rompere niente è un bel set di 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 legno tutto fatto bello guarda che sapete dove abbiamo acquistato? dove abbiamo acquistato noi? a Ikea sì a te ti piace giocare con palloncini con quella stanza con scivoli con tutto Alex ti piace tanto andare a Ikea oh questa si può caricare ah no che è te? dai carica carica ok vabbè ne posso portare vabbè sì ma io ti faccio un giro ecco potete scaricarlo già con questo Alex cosa si può costruire eh? secondo te costruiamo così 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 e se facciamo chiudere con i colleghi oh io lo so lo sai cosa facciamo? un sgabuzzino? no un banco un banco? sì ok dobbiamo chiudere no? no Alex aspetta 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 faccio io no è caduta una aspetta così mettiamo questa così ecco qui la nostra banca e qui abbiamo i soldi questi saranno i nostri soldi sì Alex? ma dobbiamo chiudere questi questi saranno i soldi e noi dobbiamo chiudere tutti chiudi chiudi però io sono un rapinatori guardate bambini cosa succede? dobbiamo prima dobbiamo prima costruire ah dai costruirsi dai finisci costruirsi io voglio io sono io sono un rapinatori adesso io adesso voglio rubare i soldi dalla banca arriva la polizia sono 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 io vado ragazzi passo non 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 che disastri fa questo vediamo tutto vediamo tutto vediamo tutto vedete un aiuto di una macchina sportiva di dietro ecco bloccato abbiamo bloccato soldi presi sì questo dove mettiamo in galera in galera in galera questo in galera sì allora tu sei brutto tu sei ok non lo fai più noi ti smontiamo ecco adesso posso rinventare le cose le luci sono hai fatto ma questi wow avete visto bimbi ma possiamo scambiarli si guarda cosa ho fatto io un elettromobil oh io faccio un trattore guarda Ale si può fare un trattore guarda guarda un trattore un trattore un trattore questo cosa si può fare oh questo si può fare oh oh con questo possiamo fare un trattore prova prova metti proviamo a fare un trattore questo no oh esatto un trattore ma questo possiamo fare in questo sempre rimane non lo so una macchina elettrica allora con questo cosa si può costruire Alex? io lo so possiamo costruire oh impariamo i colori Alex questo che colore? verde questo è verde questo? rosa fucsi direi rosa questo è blu? no arancione questo è arancione e questo invece blu? no verde ah questo è verde? verde chiaro si e invece questo? verde verde chiaro? no verde scuro ah questo è verde scuro abbiamo anche 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 questo questo bianco no bianco bianco bambini questo bianco no si è nero è nero è nero guarda il suo colore vedi? si nero si esatto e questo? ci è? c'era 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 voglio fare uno cosa uno? da solo? si vuoi fare da solo dai facciamo aspetta 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 dobbiamo mettere tutto e mettiamo no dobbiamo fare così aspetta così bambini vedono cosa tu fai ecco tutti i pezzi tu dimmi quale vuoi e li montiamo ecco avete visto? abbiamo fatto veloce 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 adesso facciamo macchinini facciamo adesso macchinini ah macchinini si dobbiamo mettere tutto a posto presto spostiamo macchinini come erano le macchine? io faccio uno tu fai una no io faccio no ma come erano? tu me lo sai io non lo so io ho dimenticato come erano io lo so fare lo sai fare? no non è così era sicuro questa era girata era così no 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 sì così era sì 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 è vero sì questo è così trattore non è trattore trattore no non è così sì va bene va bene ah sì possiamo allora le macchine abbiamo fatti guardate qua eccoci tutti i pezzi adesso dobbiamo mettere a posto con il camion a posto è un camion io metto a posto metto a posto che è bene questo giocato lì dai c'è anche la calomita qui guardate guardate io metto dai 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 da solo guardate dai ultimo no 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 Alex ti serve un aiuto aspetta Alex caduto oh stai attento perichiamo ultimo no metti qua è caduto qua no metti qua spostalo metti giusto metti giusto metti giusto no ancora Alex metti giusto io metto io metto dai dai fai te no di nuovo caduto Alex no così non prendi non c'è la calamita dai ultimo volta Alex se non facciamo andiamo facciamo un disastro qui piano Alex piano 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 bravo ci siamo allora ragazzi iscrivetevi di qua qui guardate i nuovi video e noi vi salutiamo ciao tutti